Quando lavori da solo come freelance spesso ti capitano delle sfide quando si è agli inizi soprattutto secondo me è sempre importante dire sì sì posso farlo anche se magari quella cosa può farvi non dico paura ma portare un po di ansia e in generale vi porto un attimino fuori da quella che è la vostra zona di comfort. Ebbene oggi vi racconto proprio una di queste sfide. 3 luglio 2024. Nelle settimane precedenti a questa data in agenzia nasce l'esigenza di trovare una soluzione per coprire la registrazione di un video di un evento proprio in quella data quindi 3 luglio 2024 e chi sono io per dire di no? E a questo punto magari voi mi potreste dire sì vabbè ma che cosa cambia alla fine tu i video li fai tutti i giorni ci sta? Beh in parte sì avete ragione ma c'erano due diciamo punti importanti in questo caso da tenere in considerazione. Uno non ho mai registrato un video di un evento e non sapevo effettivamente come muovermi in un certo senso e quindi cosa registrare e cosa meno. Due era da poco arrivata la S52 in agenzia e effettivamente io non ci ho mai messo le mani su o comunque in modo serio non l'avevo mai provata e in questo caso io aggiungerei anche che non avevo mai lavorato con un full frame e quindi un pochettino smarrito mi sentivo come mi sentivo smarrito con i menu di una lumix che non ho mai avuto perché lavoro principalmente con sony e fuji e in più volevo registrare o comunque c'era proprio la necessità di registrare tutto in log e partire così con il log non è proprio la cosa più soft del momento. Ma quando ci si trova in una situazione un po' così spiazzante si dice cioè che ti senti un po' fuori dalla tua zona di comfort come ci si comporta? Beh sinceramente io non lo so ovviamente però di base faccio sempre due cose uno inizio a fare ricerche su qualsiasi cosa, cerco di capire magari online come hanno fatto, come non hanno fatto vedo degli esempi eccetera eccetera e due di base studio, metto proprio lì, metto proprio lì e cerco di capire magari in questo caso il menu, come funziona il log, cerco di trovare un profilo che mi aiuti eccetera eccetera e si va avanti. Tra l'altro in descrizione vi lascio un video secondo me molto utile se avete anche voi una S5 II volete capire meglio il menu, è stato veramente utilissimo, bravissimo e preciso, quello che forse mi ha aiutato di più insieme poi ad altri, ma vi lascio tutto in descrizione. Da qui però si sono aperte diverse nuove porte e possibilità incrociate infatti nell'ultimo periodo sto cercando di aggiornare un po' alla mia attrezzatura per migliorare un attimino la qualità dei miei lavori qui online e nel mentre parlavo con Zhiyun, brand che tra l'altro conosco da un po' anche perché ho l'M3 o comunque l'ho stabilizzato di quello piccolino che però ormai non regge più quelli che sono i miei corpi macchina, ok? A parte la Fuji e visto che appunto stavamo parlando ho detto ma perché non mi fate provare l'M4? Ovviamente loro hanno accettato e hanno detto tieni ed eccolo qua ragazzi una bestia assurda ed è troppo bello, cioè io mi gaso quando prendo queste, l'attrezzatura, quando i gadget e l'attrezzatura sono belli cioè vi danno proprio, vi motivano anche in un certo senso ma forse è un problema che ho solo io ma detto questo ho studiato un attimino il tutto quindi capito anche come va stabilizzato lo stabilizzatore quello che c'è dentro, come funziona, come mi può aiutare eccetera eccetera era arrivato il momento di preparare un po' l'attrezzatura e in questi casi dove c'è sempre un punto di domanda la mia strategia è portare qualsiasi cosa perché non si può mai sapere quello che può succedere fidatevi funziona quindi in zaino, macbook air, magari per editing al volo e controllo di file kit di ricarica, microfoni, filtri, kit tech nelle pouch di pgi tech tre piedi fotocamera e stabilizzatore e altri gadget che non mi ricordo neanche più perché è passato un po' di tempo ma ho veramente portato di tutto addirittura un altro corpo macchina perché ho detto non si può mai sapere la giornata è andata bella liscia senza nessun problema e in generale è stata un'esperienza che sicuramente mi ha portato a capire molte cose sia su come proprio si devono registrare determinati video, cosa magari potrei fare quindi la prossima volta che vado a registrare un altro evento proprio per migliorare in linea generale, sia proprio sul controllo delle luci in esterna con l'utilizzo dei filtri e così via e di come effettivamente si legge al meglio uno stabilizzatore così pesante con una macchina così pesante le braccia ad un certo punto hanno iniziato a cedere, devo essere sincero dico questo perché effettivamente io ve l'ho detto già ne avevo uno sempre dello stesso brand ma era molto più piccolino, leggero per le mie macchinine, leggerine ma al suo tempo anche limitante in quel caso in questo caso invece apro una piccola parentesi perché effettivamente su Instagram ve l'avete chiesto, quello un po' più del settore devo dire che questo qui è veramente una bestia assoluta top il po' il giapolso, top la presa aggiuntiva è fighissima la possibilità di attaccare, sganciare tutto in base a quelle che sono poi le vostre esigenze è preciso, motori belli potenti e super semplici da utilizzare e stabilizzare grazie al monitor che trovate sempre a vostra disposizione insieme anche al joystick è bellissima anche la possibilità di metterlo automaticamente sia in orizzontale e verticale certo dovete fare dei piccoli giochettini per stabilizzarlo poi al meglio comunque dovete poi gestire un po' il tutto però veramente una figata pazzesca questo aggancio e sgancio rapido verticale e orizzontale è proprio una salvezza bello bello detto questo come è andata la giornata? beh devo dire molto bene, è stato molto divertente anche se un po' stancante non tanto per quello che c'era effettivamente poi da fare poi non ero neanche da solo, c'era ovviamente sempre Rocco con me ma principalmente perché non mi sentivo particolarmente bene avevo un po' di mal di gole, un po' di mal di test e quindi mi sentivo un po' limitato sotto un certo punto di vista e verso la sera questa cosa si è fatta un attimino sentire però tutto sommato molto molto bene buon cibo, tanti bei videini che mai non fanno e soprattutto tanti bei test di gadget che migasano sempre top poi voi lo sapete quindi arrivati a questo punto che dire? beh abbastanza poco è stata proprio una bella esperienza proprio in agenza sto facendo delle belle esperienze e questa cosa mi sta facendo crescere molto e mi fa veramente tanto tanto piacere e in linea generale quello che vi posso dire di base è che non saremo mai forse pronti al 100% e questa cosa un pochettino la devo capire perché sono il primo e la dobbiamo forse capire lo so poi fatemi sapere qui sotto perché se aspettiamo di essere pronti sempre al 100% alla fine finiamo per non fare praticamente nulla la paura ci sta, l'ansia ci sta dobbiamo cercare soltanto di governarla un attimino e prendere quello e renderlo in un certo senso carburante tanto alla fine problemi e pippe metalli li avremo sempre, forse, non lo so vedremo, vedremo questa vera è una serie che ci porta proprio a capire questo a devolverci cioè vorrei raccontare il mio percorso quello che faccio, quello che penso quello che studio eccetera eccetera e magari credo qualcosa insieme se avete infatti dei suggerimenti, delle idee, delle prove non lo so, tutto quello che vi passa dalla testa scrivetelo qui sotto nei commenti che a me fa sempre tanto piacere vi ringrazio come sempre per tutto il supporto ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale per un nuovo video ciao ragazzi